Ciao a tutti, è Grace in Odash e sì, abbiamo un altro tutorial di make-up, strike a pose. Questo dramatic gold sparkle look è stato creato con la nuovissima semi-sweet chocolate palette palette Too Faced e sulle labbra abbiamo due alternative. Allora, iniziamo con l'applicazione della base per gli occhi. Questo è un video giveaway, yes girl, potrai vincere questa palette. Ma passiamo agli step. Iniziamo con Peanut Butter, lo applico come transition color sulla palpebra fissa. Dopodiché, on to my crease stendo truffle, così. Sempre sulla piega palpebrale applico Cocoa Chili, che è uno dei miei ombretti preferiti della palette. Ed ora andiamo alla lid. Prima applico la Jumbo di NYX in Black Bean. And blend, yes, blend. All'estremità dell'occhio applico Licorice. Yeah, Licorice. A questo punto, con Cocoa Chili, vado a sfumare internamente la palpebra mobile con un pennello da sfumatura per dare il benvenuto a Caramel. Yes, girl. And now mascara time. Bad drop e cancel l'angolo interno. You like? Dark chocolate sole. And now let's throw. Yeah, let's highlight. Utilizzo beach bunny per i punti luce del mio viso. Like so. And now blush time. Utilizzo russet de la Femme. Lips option numero uno. Applicamente Marshmallow. It's time for Eddie by Nulak. Tell me if you like. Ok, per chi non lo sapesse ho creato un altro look con questa palpebra. So, did you watch the video? No. Now go. Up there. E adesso le regole del giveaway. Seguitemi e to face on Instagram. Follow us. Comenta il mio video Instagram usando la hashtag ChocolateBarPalette. Dopodiché, metti un like sul video Instagram. Yeah. Three steps, girl. Ci vediamo su Instagram. Willi. Sазera.